Benvenuti in questo nuovo video, io vi ho riportato un nuovo video di una nuova mod di Brawl Stars perché prima voleva richiedere l'aggiornamento e non funziona più ed eccola è questa e oggi vi porterò che si può scaricare facilmente in happy mod scaricandolo in google happy mod e oggi con me ci saranno anche tre e perciò ora andiamo a provare il nuovo brawl, il nuovo crescita come vedete noi abbiamo così, è moddato raga però noi così abbiamo tutti i brawl, è lì per la 9 quasi tutti perché dovemmo trovare questi e oggi ci sono quattro miei compagni che mi aiuteranno a trovare questi quattro brawler qua c'è Giorgio, Giorgio Randone, qua c'è Scollo, Salvatore, Scollo, qua c'è Giovanni, ciao e iniziamo Jesse raga, Jesse, abbiamo trovato Jesse ok c'è il primo baule, il nuovo brawler io ando scorrendo lasciate stare il mio amico handicappato, perciò mancano 3 brawler e andiamo con un altro pacchetto, stavolta niente ci potenziamo yes, è a livello 9 andiamo ma non c'è la casa, ho detto che era appena ho avuto la stessa linea poco poco rovina potenziamo ci scegli a livello 9 perché sennò Vittoria non se ne canta oh, 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 oh La scelta lo sa che sembra quel dicappato Di Giorgio Di Giovanni No Giorgio Di Giovanni Russo Ho sbagliato Ho sbagliato Di Salvatore Scollo È crashato Raga è crashato della minchia Raga è crashato e ci vediamo in un prossimo video Ciao figli buttani